A Messina, a Messina è bufera, l'ASP è nella bufera per la gestione della pandemia, in tant'è che l'assessorato regionale alla sanità ha istituito una commissione di inchiesta. I fari dell'assessorato regionale alla salute si sono accesi sull'ASP di Messina. L'assessore Razza ha infatti nominato una commissione ispettiva per capire cosa sia successo nella gestione dell'emergenza Covid dopo le tante lamentere dei messinesi su ritardi e lentezze del tracciamento e sulla consegna dei risultati dei tamponi. Una situazione che mette in bilico la poltrona del direttore generale Paolo Lapaglia che a sua volta dice di aver chiesto lui la verifica regionale sul proprio lavoro a stabilire dove la verità sarà questa commissione composta da 5 esperti che ha 7 giorni di tempo per analizzare l'operato dell'azienda sanitaria provinciale nel ciclone delle polemiche anche per la gestione dei malati di Covid in isolamento domiciliare. Sono diverse infatti le segnalazioni di tanti cittadini ai quali non vengono ritirati i rifiuti speciali ai prodotti da chi è in quarantena e che devono essere gestiti con una procedura speciale. E l'emergenza Covid in riva allo stretto da oggi sarà gestita dalla commissaria straordinaria Marzia Furnari nominata da razza e profilo di grande spessore con esperienza maturata sia nell'assessorato siciliano dove ha guidato l'area interdipartimentale del piano sanitario e del piano di rientro sia da commissario dell'aspe di Caltanissetta. Spetterà a lei raddrizzare la situazione precipitata nelle ultime tre settimane l'attenzione dell'assessorato per la salute su Messina ha detto razza e massima e non vogliamo che nulla sia lasciato al caso nella gestione dell'epidemia e da qui la scelta della dottoressa Furnari, quale commissario, le parole dell'assessore anche perché le polemiche non mancano e anzi aumentano ogni giorno.